La stazione ad alta velocità di Bologna La nuova classe A, 28.000 unità della nuova classe A che sono ovviamente un antipasto perché? Perché il prossimo anno arriverà la nuova GLA a partire dal marzo ma già ordinabile, è un crossover, un crossover compatto 4 metri e mezzo a 2-4 ruote motrici quindi ideale nell'utilizzo urbano con le due ruote motrici e tutto lo stile e il design della trazione integrale oppure nella sua versione 4 Matic con tutta la competenza e la nostra tradizione che ci contraddistingue Nei percorsi off-road o comunque per i viaggi, per le gire fuori porta anche in condizioni climatiche su neve o su terreni particolari La Mercedes corre e va veloce in tutti i sensi, con CLA 45 Enghe le prestazioni sono incredibili, un 0-100 in 4,6 secondi ma soprattutto il 4 cilindri più potente mai costruito nella storia Da un 2 litri abbiamo fatto i miracoli, abbiamo tirato fuori 360 cavalli, 181 cavalli litro di potenza specifica, un risultato incredibile, degno di una moto sportiva, di una moto da pista, ovviamente trazione integrale di serie per mettere a terra tutta questa potenza